Gli ho fatti entrare perché pioveva di rotto, non si poteva mangiare fuori. La temperatura era scesa, c'erano 12 gradi e non mi sono sentito di mandare via la gente. Erano quasi le 19.30 quando a causa della pioggia Federico Zacchello, titolare del Risto Bifora Zermandimogliano, ha deciso di far entrare all'interno del suo ristorante gli avventori che erano seduti ai tavoli esterni. Un comportamento naturale per mettere a riparo i clienti, infredoliti a causa del maltempo, ma il gesto per la normativa anti-covid ha fatto scattare l'inevitabile verbale reddato da una pattuglia dei carabinieri giunta appositamente sul posto. A sette e mezza ho detto, signori, accomodavi in saia grande, premetto che ho una sala che tiene 70 coperti e erano in 16. 8.20, si presenta la pattuglia dei carabinieri. Sono da fora, mi hanno fatto riconoscere, che ho dei documenti, nel frattempo ho risinato in saia a chiedere i documenti ai clienti e niente, si è messo a fare il verbale, a tirare il nome e cognome, mi metto poi a tutta responsabilità, perché ho detto non è giusto, ho bisogno di lavorare. Verbale di 400 euro con lo sconto del 30%, se la multa la pagherà entro 5 giorni. A preoccupare di più il ristoratore però sarà la decisione della prefettura di Treviso che potrebbe prendere immediati provvedimenti e forse anche chiudere l'attività per un periodo che va dai 5 ai 10 giorni. Federico Zacchello ha comunque deciso di fare ricorso. Siamo rispettosi delle regole, ma non si può chiedere ad un ristoratore di mandare via i clienti quando piove. Se sei un DTCM non ti puoi far mangiare la gente dentro, però anche a me, nella situazione che sono io, che non ti ha aiuti, non ti ha nessun sostegno, ho quattro bambini, voi avete da pagare, il lavoro non ce n'è. I clienti hanno subito mostrato solidarietà e si sono offerti di pagare la sanzione, ma il ristoratore non se l'è sentita di accettare la proposta. L'episodio è certamente destinato a far discutere ancora per molto tempo i clienti del ristorante. Secondo me, guarda, hanno fatto benissimo, falli entrare. Se hanno cominciato una cena, bisognava finirla.